Mancini Magic Arrangamento di Jerry Brubaker, musica di Harry Mancini Harry Mancini è stato uno dei più celebri direttori e compositori di colonne sonore per i film di Hollywood Le sue canzoni e temi hanno raggiunto una popolarità enorme durante gli anni grazie alla loro semplicità melodica accompagnata da arrangiamenti complessi Durante i 40 anni di lunga carriera ha vinto 4 Oscar e 20 Grammy Tra le sue composizioni più conosciute questa sera vi faremo ascoltare Mr. Yuki, Bobby Elephant, Moon River, Chalade, The Big Panther e Peter Gunn Buon ascolto! Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.